Slitta di 24 ore l'entrata in vigore in Toscana dei nuovi ticket sanitari modulati in base al reddito. Il provvedimento scatterà infatti martedì 23 agosto e non lunedì 22, come stabilito in precedenza. Motivo del rinvio problemi di carattere organizzativo, dovuti alla complessità delle procedure da mettere a punto, soprattutto se si considera il periodo estivo. Molti operatori della sanità e farmacisti riaprono lunedì, dopo le ferie estive, per cui si è deciso di utilizzare il primo giorno per attività organizzative di formazione e di comunicazione, in modo tale che dal giorno successivo gli utenti potranno ottenere informazioni puntuali ed essere orientati correttamente sul da farsi, per esempio per l'autocertificazione del reddito. A questo proposito verrà distribuito un Depliant, dove si riassumono tutte le novità. Sarà a disposizione anche un indirizzo di posta elettronica, ticket.sanit.chiocciolaregione.toscana.it ed un numero telefonico dedicato 055 43 85 901, attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, da lunedì a domenica, da poter contattare per avere tutti i chiaramenti necessari o per inviare segnalazioni e commenti.